Francesca De Andrè Francesca De Andrè, età, altezza, peso, fidanzato e famiglia Francesca De Andrè, quanti anni ha, quanto è alta e quanto pesa. Francesca De Andrè è nata a Genova il 25 gennaio del 1990, ha 27 anni, è alta 170 cm e pesa circa 63 kg. La De Andrè è figlia di Cristiano De Andrè e Carmen de Cespedes, che ha origini spagnole, nonché nipote di Fabrizio De Andrè. Quando lei aveva solo tre anni, i genitori si sono separati. Francesca è stata quindi cresciuta dalla mamma, insieme al fratello gemello e alla sorella, con diversi problemi. Proprio per questo è intervenuto il giudice minorile, che ha deciso di affidarla a Cristiano, anche se è rimasta in affidamento solo per pochi mesi. Successivamente, è stata allontanata dalla propria dimora e assistita nella casa di Nazareth, un orfanotrofio del comune di Milano. All'interno dell'istituto, però, ha vissuto un periodo molto complicato. Il motivo? L'assistente sociale, il rapporto difficile con le compagne e la lontananza dalla famiglia. Francesca De Andrè, tutto sulla carriera. La De Andrè si è diplomata al liceo linguistico. . Dopo ha frequentato la scuola di danza dell'Accademia di Milano per otto anni e ha fatto diverse esperienze come vocalist. Nel 2011, invece, ha partecipato all'ottava edizione dell'Isola dei Famosi, nella categoria Parenti di. La sua partecipazione, però, ha scatenato diverse polemiche. . Una volta finito il programma, la vita di Francesca è continuata nel mondo della moda, sia come showgirl, sia come modella. . . Inoltre, grazie alle doti canore, nel 2014 ha inciso I Esir, I Kan Boge, brano dalle sonorità elettroniche, con il quale ha ottenuto un grande successo. . . All'inizio del 2017, poi, ha lavorato per un progetto in Africa insieme a Marco Ligabue. . Francesca De Andrè, la vita privata. . La figlia di Cristiano De Andrè è stata fidanzata per ben sette anni con Daniele Interrante, conosciuto per essere stato uno dei tronisti di Uomini e Donne. . Nonostante la convivenza e i progetti di matrimonio in comune, i due si sono lasciati. . Attualmente Francesca è un'opinionista fissa di Pomeriggio 5 e Domenica Live, i programmi di successo di Barbara D'Urso. .